cosa farai quando sarai sinistra? Io cercherei di aiutare quelli che amano la notte, che amano stare insieme con gli amici per esempio birra gratis, birra meno di fumo, insomma un fumo abbastanza si rimette le sigarette in ristorante, poi tre proposte, birra un euro, sigarette in ristorante, la terza e da terza penserei di amore libero, amore libero via senza beh, saluta i tutori si saluto la cittadinanza che sempre come si saluta? e Andrea